Prima di iniziare con il video ragazzi vi invito a iscrivervi al mio canale Twitch, sicuramente in tanti magari sarete già iscritti, per i nuovi però mi raccomando c'è chi nato tv, vi lascerò il link qua sotto nei commenti fissati in alto, seguitemi e ragazzi attenzione perché magari sto un po' pensando insomma come fare e eccetera, però potrebbe tornare con i punti canale, quindi guardando i live dei premi esclusivi su Fortnite Quindi mi raccomando iniziate a seguirmi e probabilmente da questa nuova settimana, quindi da lunedì potrebbero esserci giornalmente delle live al pomeriggio, quindi appena in poche parole dovreste in teoria tornare da scuola verso le 14 o 13, dipende, quindi se vi va lasciateli un follow perché potrei tornare insomma a fare qualche live, quindi mi raccomando Ciao ragazzi bentornati in questo unissimo video, io sono Cecchinato e oggi siamo qui in un nuovissimo video per parlare dell'evento finale e anche un po' della prossima stagione, quindi quando inizierà, quando ci sarà poi ovviamente evento finale, le informazioni che abbiamo al momento Insomma questo è diciamo l'argomento di cui andremo a parlare oggi prima di iniziare, mi raccomando il link in descrizione al mio canale Telegram, canale Twitch eccetera, iscrizione al canale se ne avete ancora fatto e detto questo partiamo subito Quindi direi che possiamo partire innanzitutto ragazzi con questa news che vi mostro, infatti queste sono in teoria le decorazioni natalizie che avremo nella prossima stagione, quindi ovviamente nel capitolo 5, infatti ovviamente ci sarà come sempre l'evento festivo E sembrerebbe che a questo giro hanno aggiunto nei file nuove decorazioni, quindi probabilmente saranno all'interno della prossima mappa Già che parliamo poi della nostra stagione ragazzi, inizierà ovviamente la stagione 1 capitolo 5 il 3 dicembre e terminerà il 3 marzo, quindi queste dovrebbero essere le date ufficiali sicuramente di inizio Poi per la fine magari si sa, potrebbe cambiare eccetera, però comunque terminerà verso l'inizio di marzo Parlando invece ragazzi dell'evento finale, come possiamo vedere qui abbiamo già una news, infatti si chiamerà in teoria il Big Bang, quindi questo sarà l'evento finale del capitolo 4 che ci porterà poi direttamente nella stagione 1 capitolo 5 Inoltre ragazzi l'evento sarà Peggy 3+, quindi la maggior parte sembrerebbe delle skin saranno insomma disabilitate, quindi non si potranno usare durante l'evento Poi comunque sta roba dei Peggy 3+, eccetera dovrebbe essere personalizzabile nel sito, quindi se avete delle limitazioni in teoria potete cambiarle dal sito E infine ragazzi poi qui abbiamo tutte le notizie per l'evento finale, quindi le andiamo a leggere tutte quante, ci saranno probabilmente un po' di spoiler, le leggiamo insieme proprio subito Infatti il razzo, l'isola di Sponder Saccheggio e la Meteora saranno coinvolte nell'evento finale, un po' come quello della fine del capitolo 1 alla fine Poi il conto alla rovescia verrà avviato il 21 novembre e terminerà il 2 dicembre, dato ovviamente in cui ci sarà l'evento finale, la sera in teoria del 2 dicembre perché poi il 3 c'è la nuova stagione Poi le rotaie faranno parte dell'evento finale, per il grind non so cosa sia sinceramente I server poi andranno offline circa 8-11 ore dopo l'evento, l'evento ha 6 fasi e poi è stato aggiunto anche una schermata del buco nero, classica schermata che mettono ogni volta oramai Ci sarà un'animazione in lobby dell'evento e ad un certo punto dell'evento i giocatori saranno nascosti, molto probabilmente per una cinematica perché qualcosa accadrà alla mappa Quindi ragazzi qua abbiamo già super spoiler inerenti insomma all'evento finale, poi ricordiamo che tutti i file dell'evento finale verranno aggiunti con la patch 27.11 che arriverà questo martedì o giovedì Quindi in poche parole tante altre novità arriveranno, quindi detto questo fatemi sapere cosa ne pensate Al momento ragazzi queste sono tutte news, sia per la nuova stagione che ho fatto un video tra altre cose un pochettino più preciso qualche giorno fa Quindi se volete maggiore info sulla stagione 5 c'è il video Oggi abbiamo visto info per l'evento finale, fatemi sapere cosa ne pensate Vi ripeto ovviamente sarà il 2 dicembre alla sera E ormai non mancano altre cose neanche più di tanto, quindi ci siamo oramai Fatemi sapere cosa ne pensate e noi comunque ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando like e iscrizione, bello